Canon ha appena annunciato l'obiettivo grandangolare più ampio di tutta la sua linea. È di qualche giorno fa l'annuncio dell'uscita sul mercato di RF 10-20mm, ovviamente F4 LSTM. Un'ottica che per molti versi mi affascina, ma in questo video vi racconterò perché probabilmente non l'acquisterò. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come sapete mi occupo di fotografia e ho una vasta gamma di obiettivi nel mio corredo perché mi servono a cose diverse a seconda di quello che mi chiedono i vari clienti. In particolare, siccome mi occupo da diversi anni di fotografia di interni, mi capita di possedere diversi grandangoli che vado a utilizzare su corpo e macchina diversi magari a seconda di quello che mi viene richiesto, a seconda di come mi viene più comodo. Ovviamente avevo a suo tempo messo gli occhi sul bellissimo EF 11-24mm, Un'ottica che mi era capitato di provare a un evento touch and drive di Canon e l'avevo trovata semplicemente splendida. Le uniche cose che non mi erano piaciute erano il peso, una lente molto pesante, e il prezzo. Oggi andremo a vedere perché anche questa nuovissima uscita del parco ottiche Canon non mi convince completamente. Purtroppo io non ho ancora potuto toccare con mano questa nuova ottica e quindi non ho avuto modo di provarla. Mi baserò quindi solamente sui sample, però ci sono alcuni punti che andrò a trattare nel corso del video su cui ci sono pochi dubbi, perché ricadono sotto dei fatti assolutamente oggettivi. Se volete che in futuro i brand mi invino preventivamente questi prodotti affinché io possa testarli, io vi invito a iscrivervi al canale. In questa maniera, con uno sforzo assolutamente nullo da parte vostra, date una mano a questo canale a crescere e mi date la possibilità magari di farmi mandare qualcosa in anteprima in maniera tale che io possa testare le cose prima di parlarvene. Ma andiamo a vedere qualche dato su questa nuova lente. Cominciamo col dire che è una serie L, quindi sarà sicuramente fantastica, su questo non ho alcun dubbio, perché queste lenti comunque sono belle, comunque performano molto bene. Come vi dicevo all'inizio del video è l'ottica di casa Canon con l'angolo di campo più ampio mai rilasciata, escludendo ovviamente i fisheye. Quindi abbiamo a disposizione per esempio l'815 della serie F, obiettivo che io possiedo e che ho usato con grande soddisfazione. È un obiettivo che ha un angolo di campo totale, perché essendo un fisheye ha un angolo di campo di... credo che arrivi ai 180 gradi, quindi è un angolo di campo totale. Ora, questo 1022, vedendo la spec sheet, mi risulta che arrivi a un angolo di campo di 122. Quindi comunque di tutto rispetto assolutamente notevole, ovviamente utilizzato suppongo a 10 mm, a 20 mm sarà diverso. Punti di forza di quest'ottica sono sicuramente tropicalizzazione, sicuramente to super spectra, sicuramente elementi asferici, sicuramente il solito vetro di Canon, che comunque nonostante non sia esente da difetti, le soddisfazioni le dà. Una costruzione compatta, un'ottica devo dire molto leggera rispetto a quello che ci si sarebbe potuto aspettare, il grosso passo avanti, secondo me, rispetto all'11-24, è proprio nella costruzione, che è molto più compatta. Quest'ottica pesa sotto i 600 grammi, il che la rende molto facile da trasportare e anche da utilizzare. Per garantire un angolo di campo di questo tipo abbiamo purtroppo, questa è una cosa che a me non piace, abbiamo purtroppo un elemento frontale bombato che viene molto in fuori, è molto in rilievo rispetto al terminale dell'obiettivo. Questa è una cosa che a me non è mai piaciuta, perché ti impedisce di montare dei filtri a vite e perché comunque ti lascia l'elemento frontale un pochino più esposto a eventuali incidenti che comunque nel nostro lavoro possono succedere. È comunque presente un paraluce fisso sull'obiettivo che quindi va a dare un minimo di protezione. Mi sembra di capire, dalle spec sheets che vedo sul sito di Canon, che è possibile montare filtri su quest'ottica. Quindi si sono inventati una soluzione ingegnosa, perché i filtri possono essere montati sul retro dell'obiettivo. Quindi quello che non possiamo fare davanti per via di questo elemento frontale bombato lo possiamo fare sul retro. Quindi, alleluia, su questa lente è possibile montare dei filtri nonostante questo fastidioso e ingombrante elemento frontale. Oltre al portafiltro posteriore, un'altra simpatica novità è un pulsante funzione che sarà posizionato da qualche parte sul barilotto e che potrà essere abbinato a una funzione, credo a nostro piacimento. Non so esattamente che cosa potrà fare, però avremo un pulsante sul nostro obiettivo che potrà fargli fare delle cose che decideremo noi. Bisognerà andare a vedere se avrà effettivamente un'utilità e come potremo utilizzarlo. Però una cosa è sicura, meglio avere una cosa e poi non usarla piuttosto che non averla per niente. Ora parliamo un po' dell'utilizzo di un'ottica come questa. Per chi è un obiettivo come questo? Stiamo parlando di un F4. Diaframma fisso, quindi molto molto bella questa cosa. Noi possiamo andare a lavorare su tutto il range con un F4 fisso. Poi possiamo andare a stringere nel caso, però non abbiamo il fastidioso diaframma variabile degli obiettivi amatoriali. Ovviamente F4 non è certo un'ottica luminosa, quindi secondo me questa lente potrà essere dedicata sicuramente a quello che faccio io, fotografia di interni. Sicuramente a altre cose che faccio io, ma che facciamo in tantissimi, ovvero fotografia paesaggistica. Potrà essere dedicato sicuramente a sport all'aperto durante il giorno, perché in quel caso non abbiamo il minimo problema di luminosità e quindi anche un F4 non ci pesa. Se vogliamo fotografare sport all'aperto come basket o skateboard, secondo me quest'ottica si presta molto bene e la messa a fuoco sarà di ultimissima generazione, quindi avremo sicuramente una grossa soddisfazione a utilizzare questa lente, perché sui corpi mirrorless credo che ormai tutti i corpi macchina ci daranno una bella soddisfazione, una bella reattività a mettere a fuoco con quest'ottica. Ottica ovviamente stabilizzata, quindi abbiamo tutti i vantaggi che ne conseguono anche per la parte video, oltre che ovviamente possiamo fare dei tempi di posa più lunghi per la parte fotografica. A chi non la consiglio assolutamente, non la consiglio ai ritrattisti, perché no, secondo me è un po' troppo estrema per fare ritratto, non la consiglio a chi fa battesimi, matrimoni, cerimonia, perché secondo me di nuovo è un po' troppo estremo come angolo, avremo per forza di cose una distorsione che lascerà le prospettive un po' strane e anche la fisicità delle persone verrà in qualche modo alterata, quindi non la consiglio per questi contesti. Inoltre è troppo buia, secondo me è troppo buia per lavorarci a cerimonie, matrimoni, magari in chiesa al buio, a meno che non stiamo usando una fotocamera all'altezza, quindi se stiamo utilizzando una R5 o una R6 Mark II, lì potrebbe anche andare bene, perché con quelle macchine possiamo veramente tirare il collo agli ISO quasi senza accorgercene, quindi se stiamo usando delle macchine veramente performanti può anche andare bene per situazioni con poca luce. In tutti gli altri casi se stiamo usando una EOS R o una R7 non è proprio la scelta migliore, può funzionare ma avremo un pochettino di rumore in più. Non la consiglio ovviamente agli amatori e il motivo per cui probabilmente non la comprerò è strettamente correlato, ovvero il prezzo. Quest'ottica costa a mio parere un po' tanto e mi rendo conto che ci sono dietro delle costruzioni, delle progettazioni, ricerca e sviluppo, quindi magari non poteva costare meno di così per quello che vale, per quello che è il costo per produrne una. Me ne rendo perfettamente conto. Questo però, unito al fatto che comunque io sono già in possesso del 14-35, un'ottica che per molti versi è quasi completamente sovrapponibile, c'è uno scarto veramente minimo, guadagnerei 4 mm andando verso il grand'angolo e perderei 15 mm andando verso il 50 mm, quindi in ampia parte le due ottiche sono sovrapponibili. Per questo motivo e per il prezzo, che è un po' alto anche per le mie tasche, io credo che questa non sia l'ottica per me in questo momento, proprio come ho scartato il suo predecessore, l'11-24. Faccio presente che l'11-24 sono andato a controllare proprio oggi e continua a costare uno sproposito, costa di più. Le F11-24, nonostante sia un'ottica vecchia, continua a essere sul mercato con una cifra che supera i 3.000 euro, mentre questo 10-20 lo troviamo per la modica somma di 2.800 euro, quindi praticamente 3.000 euro, ma non ci arriva. Questo è un vantaggio per la nuova ottica, perché in realtà costa di meno di quella vecchia. Quindi da questo punto di vista, se siete alla ricerca del grand'angolo più spinto che potete cercare nella fascia di obiettivi alti di casa Canon, quest'ottica sicuramente è da tenere in considerazione. Ha un prezzo veramente un po' impegnativo. Una cosa da dire su questa lente è che secondo me sarà una bomba su APS-C. Quindi tutti quelli che stanno aspettando delle ottiche degne di questo nome per fotocamera e Canon APS-C non possono tirare un sospiro di sollievo, perché questo non è un sospiro di sollievo, è un salasso, perché un'ottica APS-C da 3.000 euro è veramente un salasso. Però un 10-20 sopra un sensore APS-C diventa un 16-32. Quindi su APS-C questa lente sarebbe fantastica. Sarebbe da prenderla in considerazione solamente per questo. Sarebbe veramente fantastica su APS-C. Sarebbe l'equivalente del 16-35 vecchio praticamente. Assolutamente uguale. Con la qualità ottica di questa lente che ho visto i sample e mi sembra comunque molto 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 gradevole. Rimane come detto proibitiva e un'altra cosa che non mi convince tantissimo per cui probabilmente non farò questo acquisto è che comunque a 10 mm c'è della distorsione non importante. Cioè non è un fisheye, non è che imbarca tutta, non c'è una distorsione vistosa, però c'è comunque una distorsione. Quindi andando a rimuovere la distorsione in post-produzione c'è anche una vignettatura. Nei sample che ho visto c'è di nuovo quella vignettatura sugli angoli molto invasiva, molto importante che è assolutamente indesiderata. Io questa cosa non la capisco, non capisco come mai posso capire ci saranno degli ostacoli in fase di progettazione per avere tutto compatto e per tenere i costi contenuti. Questo è il compromesso. Ci becchiamo questa vignettatura che c'è anche sul 14-35 a 14 mm e la troviamo sul 10-20 a 10 mm. Probabilmente a 11,5 mm già non c'è più. Però se lo vogliamo usare a tutt'angolo abbiamo questa vignettatura fastidiosa e se andiamo a rimuovere la vignettatura e la distorsione in post-produzione torniamo comunque sugli 11-12 mm quindi perdiamo sempre qualcosa. Questo fatto, che a me comunque disturba molto quindi il fatto di comprare un 10 ma poi dopo la post-produzione di ottenere un 12-13 è uno dei motivi per cui non sono convinto di fare questo acquisto. Un altro motivo è che comunque nella mia esperienza per quanto mi sia capitato di trovarmi in difficoltà nei generi fotografici che esploro mi sono trovato in difficoltà col 16 mm ma me la sono sempre cavata. Mi sono trovato magari in difficoltà col 14 mm ma a quel punto veramente era questione di spostarsi un millimetro indietro ed era tutto perfettamente in bolla. Il 10 mm con un angolo di campo ancora più ampio io veramente non so quando lo userei. Credo che acquisterei il 10-20 e poi lo userei comunque a 14 lo userei comunque a 16 lo userei comunque a 17 20 magari e quindi forse non ha tutto questo senso è un'ottica che per me rimane veramente troppo estrema perché con il 14-35 faccio veramente qualsiasi cosa quello che voglio fare riesco sempre a farlo e il 10-22 per quanto sia carina per quanto mi faccia gola se me la regalassero l'accetterei se qualcuno me la vuole regalare sentitevi liberi per carità l'accetto immediatamente però è un'ottica molto particolare è un'ottica secondo me relegata a un utilizzo abbastanza specializzato è un'ottica non è una lente che ti porti in giro non è un'ottica da tutti i giorni non è un'ottica da viaggio perché con quell'angolo di campo rimane un po' limitante va bene proprio solo per certi generi e un'ottica con quel costo con questi limiti in questo momento non credo cascherà dentro nel mio carrello della spesa a questo punto però amici vi chiedo fatemi sapere voi che cosa ne pensate fatemi sapere se siete tra i fortunati che l'hanno già preordinata fatemi sapere se vi interesserebbe se la vorreste per APS-C o per full frame vi ricordo che spesso e volentieri vi rispondo con degli shorts verticali quindi iscrivetevi altrimenti magari vi perdete una delle risposte ricordatevi di lasciare anche un like a questo video se avete imparato qualcosa di utile a voi non costa niente però mi fate capire che i contenuti sono di vostro gradimento e date una mano al canale a crescere con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video A presto